Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in questo nuovo video dedicato a tutti coloro che sono nati il 15 novembre del 1952 e ringrazio la nostra amica Eugenia che mi ha dato la possibilità scrivendomi di fare il video dedicato a tutti coloro che sono nati in questa data. Il segno zodiacale è lo scorpione e il numero calcolato sulla sua data è il numero 7. Adesso andremo a vedere qualche curiosità su questa data. Ecco qua tutti coloro che hanno il numero 7 con questa data di nascita, il senso della vita. Il senso della vita di queste persone è iniziare a fidarsi della luce, dello spirito, del processo della vita e del suo continuo sviluppo. Dovrebbero iniziare a fidarsi così tanto da potersi sentire sicuri e grazie a questa sicurezza aprirsi agli altri e riuscire a condividere la loro luce interiore con le persone attorno. La cosa più importante è quella di imparare a diventare più fiduciosi e più aperti verso se stessi e verso gli altri. I punti di forza sono sensibilità, capacità economica, disciplina, volontà di aiutare, ottimismo, orientamento all'obiettivo, personalità, capacità di insegnamento, speranza, generosità, pazienza, diligenza, gioia di vivere, indipendenza, concentrarsi sul benessere. I punti su cui riflettere sono impulsività, profitto, materialismo, reticenza, comportamento avverso, meschinità, paura della sconfitta, isolamento emotivo, insicurezza, gelosia, insensibilità, ingenuità, pessimismo, volontà di combattere. I talenti. Il numero 7 ha una spiccata intelligenza e vede e capisce le cose immediatamente. Sa leggere nel libro della vita molto velocemente e soprattutto attentamente. Legge anche tra le righe. Hanno talento per la scrittura e possono diventare filosofi, ricercatori, pensatori. Preferiscono lavorare da soli. Hanno una buona predisposizione artistica, possono riuscire come ballerini, cantanti, musicisti. In realtà il numero 7 si costruisce una base solida nell'arco degli anni e può ricoprire ruoli ad altissimo livello. La cosa più importante è non toccare il loro profondo e lasciare loro il tempo libero per se stessi. Vediamo cos'altro. Altre caratteristiche. Visto che al numero 7 piace leggere tra le righe è sempre alla ricerca della conoscenza più profonda, che poi si trasforma in saggezza. Anche se bisogna specificare che solitamente non vuole saperne di metafisica, respinge la spiritualità, non ne vuole proprio sentir parlare o addirittura la irrita. Comunque nel loro percorso di vita per i numeri 7 arriva sempre il momento nel quale saranno costretti a scavare di più nel loro profondo per capirsi meglio. Questo li porterà a una profonda fiducia in se stessi e alla fine all'avvicinamento a quello che prima rifiutavano. Queste persone si sentono ragazzini per tutta la vita e per questo stanno molto bene in compagnia dei bambini. Sentono che si possono finalmente fidare e i bambini percepiscono la stessa cosa. Grazie a queste sensazioni reciproche si collegano a un livello più profondo. Il numero 7 nella vita cerca un partner con il quale spera di trovare l'armonia, equilibrio e soprattutto la completezza. E cosa succede? Non si rendono conto che per creare questa situazione in un rapporto che sia con un amico, con il partner bisogna essere aperti e avere grande fiducia così da dare la possibilità a un altro di entrare nel proprio intimo. Verso i rapporti molto intimi 7 hanno emozioni e idee molto confuse perché da un lato vogliono l'amicizia, un rapporto serio, ma allo stesso tempo non lo vogliono perché non si fidano completamente e vivono con la paura di essere feriti. Vediamo cos'altro. Niente, per questo abbiamo concluso. Vediamo un po' che cosa ci dice questo libro per quanto riguarda il cambiamento. Il nostro numero è sempre il 7 e il 7 corrisponde all'autoanalisi. Durante il settimo anno le persone cominceranno a sentire che qualcosa sta per finire, inizieranno ad adoperarsi per raggiungere gli obiettivi finanziari e personali prima che avvertano che il tempo sia esaurito. Le relazioni e la vita sociale saranno meno prioritarie nel settimo anno, poiché le persone si concentreranno esclusivamente su se stesse e sui loro progetti. Nel settimo anno ci sarà una forte rivalutazione di sé. Si parla nel settimo anno di un qualsiasi progetto che si è andato a intraprendere, cioè nel settimo anno dall'inizio del lavoro, nel settimo anno per quanto riguarda le relazioni. Il percorso di vita dei sette. I numeri sette sono gli investigatori e i ricercatori di questioni spirituali. Non hanno problemi a fare ricerche su qualsiasi argomento perché questo è il più intellettuale su tutti i sentieri della vita. Chiunque abbia bisogno di informazioni su qualsiasi argomento dovrebbe rivolgersi a un numero sette. Tendono a essere solitari o distaccati e si sentono a proprio agio quando sono soli con se stessi. Sono attratti dai studi religiosi, occulti spirituali, metafisici e sono molto sensitivi. Amano tutto ciò che ha a che fare con l'apprendimento. Vediamo il giorno di nascita. Mi incuriosisce. Il numero 15. Vediamo. Vediamo questo numero 15. 14 e 15. Allora, 15. I nati con il numero 15 sono affidabili, ambiziosi e godono di una fortuna modesta, il che consente loro di ottenere discreti risultati materiali e morali. Sono flessibili, ottimisti, creativi e tendono ad apprendere facilmente nuove materie. Sono molto bravi a individuare le novità e di solito sono in grado di anticipare le nuove tendenze. Avranno difficoltà a raggiungere i loro obiettivi se non sono in grado di lottare contro la loro stessa incertezza e indecisione. A questa persona piace esprimere il proprio amore per le figure che la circondano, chiedendole consigli e sostegno. Questo tende a farle piacere e a lusengarle enormemente. Può facilmente ignorare i propri obiettivi e bisogni per concentrarsi su quelli degli altri. Se non riescono a concentrarsi più spesso su se stessi potrebbero provare risentimento nei confronti delle persone che hanno più bisogno di loro. Amano particolarmente i bambini e la famiglia anche se tendono a essere oppressivi come genitori e come partner. Il partner deve essere disposto ad evolversi in continuazione per contenere il suo interesse. Questa persona può svilupparsi in diversi ruoli con relativa facilità. Sono altrettanto bravi sia come dipendenti che come imprenditori. Tutto ciò che ha a che fare con l'insegnamento sarebbe un buon lavoro per loro, così come i lavori nel campo dell'assistenza sociale. Adesso andiamo a vedere qualcosa che riguarda la caratteristica del segno per quanto riguarda i nostri amici dello scorpione. Vediamo dove inizia perché qua ce ne sarebbe da leggere. Caratteristiche dello scorpione. Vediamo un po' caratteristiche generali del segno. La razionalità lucida e l'istintività cieca e irrefrenabile dominano psicologicamente questo segno. Marte, suo governatore, gli dà l'aggressività, la voglia di combattere e la tendenza a mettere sempre in gioco la propria vita e la forza di distruzione, unita alla passione, all'Eros più sfrenato, come vuole il pianeta Plutone, il dio della passione e della morte, che pure si trova in questo segno. L'aggressività è unita all'intelligenza lucida e quindi agisce sempre in modo diretto a un fine ben preciso. A volte può degenerare in smania di potere, gelosia, sete di vendetta e inganno. L'erotismo e l'aggressività rispecchiano quindi il modo di vivere dello scorpione, ispirato dal voler gustare il piacere fino in fondo per esorcizzare la paura della morte. I miti più profondamente legati al segno dello scorpione sono quelli di Eros e Thanatos, in un'alternanza infernale di intimo e morte, dove è indispensabile scendere agli inferi e morire per ottenere la resurrezione. Adesso andiamo a leggere un messaggio per quanto riguarda la nostra amica. Vediamo un po'. Andiamo a prendere il messaggio 620, 622. Vediamo. non mi ricordo questo. Ah no, questo è un altro tipo di libro. Allora, il messaggio prendiamo il 62 che è calcolato sulla sua data. Allora, vediamo un po'. Desiderio di sapere aiuta a imparare, ispirando nel nativo l'amore verso il sapere e la capacità di istruirsi. L'individuo si interessa a vari argomenti, svolgendo ricerche adeguate e utili al suo apprendimento. Vorrà capire il come e il perché del funzionamento di cose ed esseri, basando le sue ricerche soltanto su realtà e concretezza. Il suo percorso di vita sarà così orientato, imparare a capire per poi restituire in uno scambio con il prossimo, il contenuto delle sue ricerche. Sarà questo desiderio di sapere ad accordargli l'autorità di poter spiegare agli altri ciò che ha capito e assimilato dai suoi studi. Questo è tutto ciò che abbiamo letto per quanto riguarda le curiosità di tutti coloro che sono nati il 15 novembre del 1952. Spero che questi video vi piacciano. Io ricordo a tutti coloro che mi hanno scritto che piano piano vi farò tutti. Continuate a scrivermi nome e data di nascita, fatemi sapere se volete magari più caratteristiche scrivendomi anche l'ascendente. Io ringrazio Eugenia per avermi dato la possibilità di fare questo video, vi ringrazio tutti, prendetevi i miei contatti qualora voleste parlare con me, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io rinnovo i miei ringraziamenti e ci vediamo al prossimo video. Grazie.